ooooh che andammo insieme o andammo una alla volta? aspetta vado io a fare il temerario vai io ti seguo subito dopo ti dico se è sicuro eh ooooh tutto viola vengo? non tocca niente così vedono pure i miei fan si si posso? mi vieni? è libera la situazione? si si che c'è sta? che c'è sta? fammi vedere oddio dove stiamo? oddio oh attento a non farti beccare non colpire pigman o non farti colpire da nessun gust perché tu hai mezzo cuore e crepi si infatti qua c'è un fungo il nostro obiettivo non è finire il gioco perché è impossibile si infatti ma eh allora io raccolgo subito il netherrack eh si io pensavo di trovare pure una cesta qua da qualche parte sennò dove la troviamo? ok abbiamo completato un altro obiettivo grandi ehi la soppia pure io vabbè che io non ne piglierò solo 10 ne prenderò ancora di più si infatti mi ci faccio l'abbellimento per la casa perché non so se lo sapevate ragazzi vabbè adesso farò una cosa molto forse per molti giocatori di minecraft sarà ovvia ma posso accendere un netherrack e esso rimanerà acceso per sempre guardate che bello oh mio dio ma dove siamo? e poi dove sta? mi aspetta mi aspetta voglio venire pure io mi so perso eccome allora la glowstone sta proprio campata per aria quindi allora c'è un pigman ah è appunto allora i pigman sono animali cioè sono mob passivi neutrali quindi praticamente finchè non li attacchi essi non ti fanno nulla ah perfetto se incontri un ghast cavoli tuo scappa ok vado a più un po' di cose raccoli tu? come se fa piccone? aspetta fammi provare piccone oh eh che è? dammi spazio anche a me eh vieni mannaggia non ci arrivo eh devi alzare un po' di più ho attento a non cadere che me sa che te mori si sicuramente muoio questo è un altro obiettivo sbaglio? si si perfetto l'avremmo già completato da un pezzo vamo a vedere si e io ce n'ho perfetto 35 io mi scavo sotto i piedi quindi ci posso si ma noi siamo dei pro vabbè guys non voglio fare tanto il non voglio adesso fare tanto il vago scusatemi raga ma io però più ci penso e più di quanto cacchio sta la cesta deve stare per forza da sti pizzi cioè noi dobbiamo adesso andare a cercare una cesta qui in mezzo ho capito dove sta però cioè se nel mondo ma quante cesta abbiamo raccolto finora scusa? due mi pare o no? ma io mi ricordo tre perché tre? vabbè vabbè una stava sotto la x all'inizio del gioco giusto? si una stava nel blocco d'argilla e vedi sono due e l'altra stava sotto la piramide mi sa no non c'era niente sotto la piramide c'era il diamante ma il diamante ce l'abbiamo ancora? ehm pensate si per ora torniamo indietro tanto il portale ce l'abbiamo si infatti comunque ragazzi se voi sapete per caso dove è questa cesta nascosta sempre se ci sia ditecelo perché dai ci vorranno ore ore per esplorare tutto quanto no? infatti torno indietro eh ti aspetto vicino al portale eh si sta arrivando qui attimo che raccolgo un po' di raccolgo un po' di netherrack ce n'ho 33 se la vuoi no netherroccia lo chiama e invece la goldstone che polvere di baglio pietra oh dio mio è pazzia questa baglio pietra cioè ragazzi chi ha tradotto questo gioco? spero che non sia stato Notch che ha usato un traduttore automatico eh? si ma dai neanche un traduttore automatico ti può chiamare la glowstone baglio pietra baglio pietra oh io ho raccolto un po' di baglio pietra pietra si eh che figo zi dai ci può bastare un po' non è che ci vuoi fare tutta la casa de netherrack stavo a vedere se da sti pizzi trovavo la cesta io ancora non mi do pervento siiii dai non è possibile cioè deve stare in forza a qualche parte no secondo me però sky pyramid è così cioè il mondo di sky pyramid rimane sempre quello la mappa però la mappa del nether mi sa che è casuale ah dici non l'hanno modificata eh non mi pare eh infatti boh vabbè rientriamo nel nostro oddio in senso non è come non è come sky block cioè ragazzi guardate questo qua che c'ha la spadina d'oro e guardate a me come si vede la spada d'oro oh oddio oddio via via vabbè io torno di là ok anch'io salute ah si è sentito? si mi sono tolto la cuffia apposta vabbè vabbè scusate madonna guarda la foresta aspetta ormai abbiamo xeon ti ricordi magari la cesta è nascosta non era una cesta nascosta ma era una semplice cesta quella dell'inizio gioco può essere boh non lo so mi serve una conferma non lo so chi ci lo può dire eh muo vediamo se qualcuno lo sa meglio di noi questo lo mettiamo qua oh mazza quanta roba c'avemo ok abbiamo già abbiamo già completato parecchi obiettivi spero si mi sembra un po' tre quattro obiettivi l'abbiamo già fatti poi ovviamente visto che io c'ho il culo pesante ragazzi xeon one ricontrollerà tutti i video e mi dirà dove sono finiti cioè quali obiettivi abbiamo finito giusto ok o comunque ma un altro letto no non c'abbiamo la lana vabbè dimmi dimmi e il diamante ho controllato ce ne abbiamo sette meno male e vabbè sai che c'è sai che possiamo fare sì io vado a fare l'orto un altro un altro pochetto un'altra puntata così io vado a fare l'orto e tu continua la torre che ne pensi ok allora il secchiello ci basta un po' il tempo? sì penso di sì ehm allora metto via il secchiello della lava e mettere la lava da qualche parte aspetta allora fammi via pure allora che devo raccogliere? due blocchi da 64 pietra grezzo ma la pietra grezza poi dovremmo raccogliere altra ah sì ci abbiamo il genera che coglione ci abbiamo possiamo rifare il generatore ok apriamo i funghi perché faccio pure una farm di funghi lì possiamo dire che è stato un fail mentale ah mi serve un po' di pietra per farmela attrezzo per scavalla bene mi è rimasto solo dimmi a me è rimasto solo un simboletto della fame quindi tra poco potrei morire no cioè di fame si però se adesso sto attento poi devo stare attento a non cadere di sotto eh allora legna abbiamo pure un blocchetto di legna senza che devo tornare indietro mi potresti fare le scalette per favore di cosa di pietra o di legno le vuoi? no in senso quelle scalette verticali ah quindi per forza di legno ok con le stecchette con gli stecchetti devi fare solo stecchetti ma perché utilizziamo quelle? per la torre utilizziamo quelle? perché è più veloce vogliamo usare quelle? va bene ecco sto per crepare cioè adesso arriverò anche io mezzo cuore mannaggia a me e vabbè che ci puoi fare scusa allora ma perché stiamo a normal? si te le sto a fare eh devo scendere senza farmi male aspetta 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 un attimo che sto vedendo lì eh che sto a fare scalette ti ho fatto 20 scalette le possono bastare? per adesso? spero dai da abbassamele bla 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 vomita vomita se vuoi te ne faccio un altro po' eh basta che me lo dici si poi però vieni a portar a portarmele per adesso sto usando l'alberi come scale ecco qua comincio a perdere energia e vabbè dai te le sto a portare eh sto posando un attimo la lava qui a fianco al coso dell'inferno ricordiamoci di non di non chiudere in nessun modo perché sennò poi la perdiamo ecco qua così c'è il secchiello vuoto dove stai? sto montando le ho montato le scale dove? dentro? si ecco qua sono in cima alla torre e dopo leva sta sta roba di terra eh no no mi serve per adesso ho detto dopo si si te le sto a portare qua sopra oddio dio come salgo? ah devo mettere un'altra scaletta eh un attimo ti aggiungi un'altra scaletta ok dove stai? qui a te dove me le butti aspetta così qui ok un attimo devi solo scendere e lasciarti andare eh non ci riesco mai lo sai attento si ma non ti muovere perché sono cadi e muori si si infatti sono stavo fermo ok sono giù madonna xevan guarda gli alberi che sono diventati assurdi assurdi abbiamo fatto una fattoria di alberi assurda è una foresta ormai si infatti achievement finito già dall'inizio vabbè mi devo ricordare di mettere le torce sta a scendere la notte? si ma devo mettere pure io qua in zona nella zona dell'orto eh no con mezzo cuore non ce la fai a combattere in mostri eh eh appunto le devo mettere per forza ce n'ho tre xpius mettere un'altra qua ok speriamo che non non crescano i mostri ah mi devo fare un po' d'acqua infinita qua vicino la lavamo qua così non devo fare i chilometri ogni volta ok altre torce oh nel forno c'è sta il carbone eh te lo ricordo un'altra volta no l'ho preso già l'ho preso prima ah ok pensavo non l'avessi più preso se dovessi morire si non finiscono nel void quindi posso sempre recuperare tutti gli oggetti ah si ho capito perchè sono la torre come faccio a finire nel void è impossibile da qui oddio se uno ci si butta proprio d'impegno penso anche che figo vedo tutto da qua sopra e quella sarà una nostra torre di avvistamento peccato che la devo fare fino a quando raggiungo il cielo chissà quanto fino a quanto fino a quanto sarà alto ah non lo so non è un problema mio perchè la stai costruendo tu non lo so piaccato c occurred 常